Siamo qui oggi per presentare la piattaforma regionale Industria 4.0, un progetto di collaborazione tra imprese e aziende. Oggi è un giorno importante per la nostra regione perché oggi teniamo a battesimo la prima piattaforma Industria 4.0 che è un pilastro dell'ecosistema economico della nostra regione. È un luogo fisico, un laboratorio a disposizione delle imprese con una grande collaborazione del mondo universitario dove le aziende più grandi insieme a quelle più piccole potranno fare innovazione. Regione Marche ci ha creduto moltissimo, ha messo a disposizione oltre 5 milioni di euro, un progetto che cuba complessivamente 9 milioni di euro, vede università 23 soggetti nella totalità, 19 tra le imprese più importanti di questo territorio, l'obiettivo è duplice. Da un lato aumentare la competitività delle nostre imprese, dall'altro lato cercare di vincere quella sfida che è propria della quarta rivoluzione industriale, cioè utilizzare quelle che sono le tecnologie più avanzate cercando però di creare anche un impatto occupazionale rilevante. Non è scontato perché quando si parla di innovazione molti pensano che questo in realtà possa diminuire l'occupazione dei posti di lavoro. Noi crediamo invece che quando si introducono nel mercato tecnologie così avanzate sia importante accompagnare a questo ingresso quello di personale altamente qualificato che solo il mondo universitario e accademico può metterci a disposizione.